operai a lavoro sulla strada provinciale 92 a Fano che da oggi ha certamente qualche buca in meno proprio il tratto incriminato dalla rotonda di via campanella fino alle porte del quartiere santorso del quale vi abbiamo mostrato le immagini inequivocabili i giorni scorsi è interessato in queste ore da una profonda opera di riparazione dei punti più disastrati non con semplici sacchi di agglomerato che alla prima pioggia saltano via ma secondo regola d'arte come dimostra il cantiere in opera è molto probabile che le lamentele degli utenti della strada e dei residenti raccolte anche da noi assieme all'impatto mediatico dei servizi che abbiamo realizzati siano stati certamente in là per dare il via ad un necessario ed improcrastinabile intervento i punti con il ristagno di acqua davanti alle abitazioni ora è stato eliminato e diversi rettangoli di asfalto ammalorato grattati via e rifatto completamente il manto stradale certo non è un intervento risolutivo ma parziale e comunque se questa mole di traffico rimarrà invariata ancora per molto ben presto saremo punto e a capo con un ulteriore dispendio di soldi pubblici per il caso di dire metterci ancora diverse pezze